Ciao ragazzi, bentrovati su Foot18 Italia, un saluto da Lucio. Siamo qui oggi per un breve video sugli incontri principali per la settimana prossima, quindi per martedì 23 maggio. Allora, partiamo dal presupposto che ci saranno gli amichevori delle nazionali, quindi è molto probabile che escano quest'ultime in attesa dei mondiali. Ci sono però alcuni match interessanti che potrebbero uscire nella SBC e sono tre le partite, due di MLS e una nella finale di Champions League. Per quanto riguarda la finale di Champions League consigliamo l'acquisto di qualsiasi carta del Real Madrid o del Liverpool, anche argento, da vendere in hype il martedì stesso, quindi entro le 18 del pomeriggio. Mentre da tenere in club in lista trasferimenti i giocatori con overall possibilmente 78 o più, oro chiaramente. Per quanto riguarda il Real Madrid ci potremmo invece concentrare sull'acquisto di Kovacic che costa intorno ai 2500 crediti, in quanto è un overall 82, quindi potrebbe anche essere utilizzato per l'SBC TOTS garantito nel corso della settimana che ci sarà l'uscita della Bundesliga. Oltre al fatto che quando uscisse Real Madrid e Liverpool negli incontri principali potrebbe richiedere un overall 80, quindi una valutazione abbastanza alta per la sfida. Le altre squadre come potete vedere dalle immagini che seguono sono quattro squadre di MLS e sono in match tra Sporting e Columbus Crew e fra Los Angeles Galaxy e San Jose Heartquake. Qui possiamo comprare giocatori bronzo 1x200 crediti e carte argento a non spendere non più di 500 crediti a carta. È difficile ci sia hype in queste partite, quindi tenete tutto in club in lista da vendere qualora escono i match. Vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciate un like, attivate le notifiche per non perdere nessun video. Grazie per l'ascolto, un saluto da Lucio e da Fu18Italia. Ciao!